Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, il settimanale di Fano TV. Ci si attendeva una partita complicata e dall'esito che poteva essere negativo. Non ci si aspettava però una debacle di queste proporzioni dall'Almaio in Tosfano che è stata travolta a Senigallia da una Vigor che ha ritrovato lo smalto della passata stagione. Una battuta d'arresto che influisce ovviamente sulla classifica ma anche sul morale. Alla vigilia ormai, possiamo dirlo, dell'impegno infrasettimanale prepasquale con l'Atletico Ascoli che a questo punto assume un'importanza vitale per la squadra Granata. Temi che affronteremo con Omar Manuelli, ormai da pochissimo direttore tecnico della Società Granata. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi. Omar, dicevamo di una sconfitta dalle proporzioni chiaramente inattese e anche di una prestazione sottotono che ha fatto specie perché è arrivata una settimana dopo invece la prestazione Gagliardo offerta contro il Campobasso primo della classe con cui l'Alma aveva ampiamente legittimato il pareggio. Sì, ci sono da dire poche parole sulla prestazione perché chiaramente dopo un 5-1 di quella portata effettivamente si potevano subire altri gol è difficile trovare spiegazioni tecnico o tattiche o perlomeno ce ne sono tante da valutare. Non ce se l'aspettava perché come hai detto te venivamo da una buona prestazione col Campobasso al di là del risultato, l'atteggiamento che avevamo messo in campo sicuramente non faceva pensare a una sconfitta di questo genere. però c'è poco altro da fare che lavorare resettare, mettere in archivio subito questa sconfitta perché fra due giorni si gioca una partita a questo punto fondamentale perché giovedì in casa bisogna far punti senza meno ma più che punti bisogna vincere senza meno se si vuole allontanare la zona bassa della classifica. Vediamo quello che è accaduto a Senigallia a partire da quel gol preso in apertura una brutta abitudine della squadra anche col Campobasso era successo di capitolare all'inizio e questo per una formazione che si dimena in quella posizione di classifica oltretutto composta da molti giocatori giovani non è un'abitudine appunto apprezzabile. No, questa è una cosa che dobbiamo correggere perché come hai detto tu è una squadra giovane e quindi le squadre giovani vivono molto anche di entusiasmo e quindi se prendi gol subito è chiaro che questo un po' va a sfumare quindi bisogna avere più attenzione in più dovevamo essere più attenti e più quadrati proprio a livello di squadra insomma invece in 14-15 minuti abbiamo preso due gol evitabili tra l'altro noi abbiamo preso gol nelle ultime partite i primi minuti ma la vigore è una anche di quelle squadre che fa gol nei primi minuti e lo sapevamo quindi bisognava stare molto molto più attenti Ecco, in questo caso l'aggravante di aver subito il secondo gol praticamente quasi subito dopo il primo c'è stata però la possibilità anche, voglio dire, fuori dalla logica di una partita che la Vigor stava dominando di riaprirla con il gol di Pier Federici cui sono seguiti altri episodi che poi analizzeremo con più attenzione che in qualche modo hanno di nuovo indirizzato la gara dalla parte della Vigor in particolare questo rigore trasformato da pesaresi abbiamo visto già quale sia stata la dinamica dell'azione che ha portato alla concessione di questo calcio di rigore che appunto ha riportato la Vigor sul più due e poi nel finale la formazione di casa ha dilagato Prima di analizzare appunto nel merito questi episodi ovviamente ha seminato qualche perplessità la scelta da parte di Manoni non solo di ritoccare la squadra che aveva ben figurato con il campo basso ma di schierarla con una difesa quattro tutta giovane con tre attaccanti e altri due giocatori di centrocampo chiaramente più portati ad offendere che a difendere Sì, questa è stata una scelta del mister che va comunque difesa ovviamente lui non pensava sicuramente la strategia della partita andasse in questo modo è andata male sarà motivo di riflessione anche per lui ha fatto questa scelta di far giocare tutti gli under dietro è andata male pensava probabilmente nella sua testa di far più male in fase offensiva e invece poi i due gol a freddo ha cambiato anche tutta l'inerzia della partita poi come dicevi te è chiaro che il calcio soprattutto in queste categorie è spesse volte fatto ad episodi e quegli episodi non voglio togliere nulla la vigor che ha fatto una gran partita il risultato è ovviamente solare però il calcio è fatto di episodi a volte si pareggiano le partite che non meriti a volte vinci delle partite che non meriti e quegli episodi potevano magari riaprire una partita perché è riandato anche con un pizzico di fortuna forse nell'unico lampo che ha avuto il Fano di trovare il 2-1 che poteva ridare magari morare alla squadra invece poi ci sono stati due episodi uno non so se hai fatto vedere secondo me l'espulsione di Pesaresi andiamo un po' ad analizzarli meglio ripeto non è in discussione la legittimità del risultato la vigor ha prevaricato un fatto oggettivo sul piano del gioco ma semplicemente a titolo di cronaca andiamo ad analizzare in prima battuta quello che è accaduto in uno scontro fra Pesaresi e Gonzales siamo sul 2-1 ci si contende palle poi Pesaresi da terra prima cerca di colpire Gonzales e poi lo colpisce davanti agli occhi dell'arbitro è lì a due passi forse un po' coperto da un paio di giocatori però francamente si tratta di un episodio che avrebbe dovuto portare all'adozione di un'assunzione nei confronti di Pesaresi sanzione che non è arrivata Pesaresi aveva già firmato un gol e poi ne firmerà un altro perché poi lo stesso Pesaresi mentre vediamo cerchiato appunto l'episodio incriminato che è abbastanza evidente ci ha provato più volte ci ha provato più volte esattamente quindi non ci sono credo grosse disquisizioni da fare sul sul fatto in sé andiamo a vedere anche quello che è successo qualche minuto dopo quando sempre Pesaresi nel contesto di un'azione concitata stavolta all'interno dell'area di rigore Granata termina a terra ora anche qui abbastanza evidente anche dal vivo e senza che le immagini vengano proposte in una sorta di moviola Pesaresi si getta non appena intravede l'ostacolo di Mancini che non fa nulla per intercettarlo e anzi cerca di scansarsi se non è simulazione poco ci manca in questo caso l'arbitro ha visto evidentemente quel qualcosa che era successo prima e che gli era sfuggito ribadiamo il concetto qui la vittoria della Vigor e in quelle dimensioni non è in discussione però certo non ci si può fare ragione del fatto che qualcuno abbia segnato sette in pagella a questo arbitro che ha valutato male malissimo due episodi determinanti anche per questo poi è andato sul 3-1 che di fatto ha chiuso la partita e ha dato modo alla Vigor di lagare e di chiudere la partita c'è da dire che prima del 2-1 del Fano la poteva già aver chiuso una serie di occasione di inizio di ripresa clamorose che abbiamo appunto poteva già andare sul 3-1 però siccome visto non gli aveva fatti i gol quindi voglio dire non è che le partite come ho detto a volte si pareggiano e si vincono anche immeritatamente e quindi il 2-1 aveva riaperto una partita e questi episodi chiaramente l'hanno poi indirizzata perché sono decisivi ovviamente sulle direzioni arbitrali non si può incidere si può incidere sul proprio atteggiamento sul modo di stare in campo sulla propria aggressività sulla propria concentrazione di quello che è chiamato a fare l'alma in previsione di questa sfida con l'Atletico Ascoli che è squadra molto diversa dalla Vigor Senigaglia una squadra molto concreta che ha avuto grande regolarità di rendimento e che anche a Fano baderà al sodo Sì, anche loro da quanto hanno cambiato allenatore hanno cambiato passo è una squadra che va dal sodo si schierano sempre con un 3-5-2 solido e quindi spesso e volentieri stanno chiusi per poi ripartire in contropiede ripartenza chiamiamola come vogliamo e quindi sarà sarà una partita tosta insomma una partita difficile però da qui alla fine non possiamo guardare chi è l'avversario di turno dobbiamo fare i punti con tutti quindi dipendentemente chi è abbiamo fatto i punti con il Campobasso abbiamo fatto i punti col Chieti quindi in casa abbiamo fatto delle ottime prestazioni e dobbiamo continuare a farle e cominciare a fare i punti anche fuori casa senza meno Anche perché di partita ne restano soltanto 6 compresa quella con l'Atletico Ascoli abbiamo più volte fatto riferimento con gli ospiti che si sono alternati su quella che sembra essere la grande prerogativa di quest'Alma che ha tanti deficit di ordine tecnico e non solo vale a dire l'unità di intenti lo spirito che anima lo spogliatoio coglie ancora questi elementi in previsione di questo rush finale decisivo Sì io credo anche dopo domenica se uno guarda il piano dell'impegno la corsa la dedizione dei ragazzi credo che non ci sia stato un giocatore che non ha dato tutto poi chiaro a livello psicologico una volta preso il terzo o il quarto gol sfido chiunque a non crollare anche a livello psicologico soprattutto una squadra una squadra giovane per il resto il gruppo anche se io sono da poco dentro totalmente però sai benissimo che da st'estate che sono vicino alla squadra e quindi li conosco bene e non c'è stato mai un attimo o mezzo dubbio sull'integrità del gruppo e della squadra perché veramente anzi devo dire che è raro trovare un gruppo coeso e unito poi chiaramente nel calcio ci sono i valori questo non vuol dire che se un gruppo è coeso ha grandi valori è un grande valore il fatto di essere coeso spirito di gruppo l'attaccamento alla maglia io capisco i tifosi dove ho anche tanti amici che sono arrabbiati perché sono arrabbiato io e arrabbiato il presidente arrabbiati i giocatori l'allenatore tutti siamo arrabbiati per la questione classifica però i ragazzi sono veramente da elogiare da quel punto di vista insomma valori morali dunque all'altezza della situazione quanto ai valori tecnici bisogna anche considerare quello che è successo nelle ultime settimane perché l'alma in quota over non è che avesse tutta questa abbondanza perso nell'ordine Tommassini che comunque era stato titolare quasi fisso al centro della difesa e Calombo che è l'elemento forse di maggiore esperienza in assoluto perché ne ha fatta tanto anche a livello professionistico due tegole non da poco Calo secondo me è un giocatore che c'entra poco in questa categoria se sta bene nel senso che veramente ha un motore di altra categoria oltre ad essere un ragazzo eccezionale quindi per noi è una perdita incredibile anche perché come avete visto ricopre vari ruoli in questa categoria veramente con prestazioni più o meno ottime può fare tutti i ruoli veramente perché ha un motore di altra categoria che ha un'esperienza una capacità tecnica e tattica veramente importante quindi il ragazzo che per noi è fondamentale è chiaro che è una grave perdita e non ci voleva adesso da qui alla fine perché ci avrebbe dato una grossa mano però abbiamo dimostrato anche in altre partite con altri allenatori dove forse eravamo anche più in emergenza perché ci sono state delle partite dove non avevamo gli attaccanti per niente quindi abbiamo fatto punti uguali non tanti però qualche punto e qualche risultato ne abbiamo fatto uguali quindi cerchiamo di non trovare alibi anche se è difficile andare avanti e centrare l'obiettivo che è quello di rimanere in categoria A proposito di risultati quelli dell'ultimo turno ovviamente il quadro non è così incoraggiante lì in coda hanno mosso la classifica un po' tutti in particolare il Termoli che si è imposto sul notaresco che sin qui ha fatto benissimo Real Motore-Rotonde Tivoli hanno pareggiato il vasto Girardi ha rallentato il Campobasso così come aveva fatto l'Alma l'Amattese a sua volta ha bloccato l'Assemblea d'Ettese di cui anche la decisione della società Rosso-Blu di rimuovere Alessandrini dopo tre partite appena per quel che riguarda invece la classifica Alma che conserva un punto di margine sul penultimo posto che significherebbe retrocessione diretta mentre per quello che riguarda i play-out al momento li disputerebbe ma siamo al limite a sette i punti di ritardo rispetto a questo Riccione che continua a rappresentare la sorpresa negativa di questo campionato giovedì l'incontro con l'Atletico Ascoli credo che tu possa condividere l'opinione corrente che l'obiettivo dell'Alma ragionevolmente deve essere quello di disputare i play-out nella migliore condizione possibile sì sì questo è l'obiettivo minimo ormai che dobbiamo raggiungere sono venuti da girarci quindi domenica ci sono due partite fondamentali perché credo che si scontrano Vasto Girardi e Matese giovedì giovedì e Monte Rotondo Tivoli credo e quindi qualcuno farà i punti a meno che non fanno entrambi pareggio però al di là degli scontri noi dobbiamo fare tre punti che sarebbero fondamentali proprio in vista anche di questi altri scontri che ci sono insomma come hai accolto la decisione dal punto di vista personale del Presidente Guida di vestirti di questo ruolo di direttore tecnico dopo che all'inizio della stagione avevi appunto assunto quello di responsabile del settore giovanile ma intanto dico che ancora sono il responsabile anche del settore giovanile quindi visto questo incarico il Presidente Guida era un po' chi mi chiedeva di stare più vicino alla prima squadra perché fondamentalmente già un po' lo facevo da st'estate insomma sia con Scorsini che con Giovanni con Ornachini che un amico quindi mi sono sempre messo a disposizione di dare una mano lui voleva che ufficialmente prendessi questo incarico e chiaramente sai benissimo quanto sono legato io al Fano da credo che con quest'anno sono nove anni che non di continuo ma che ha pizzichi e bocconi e lavoro per il Fano quindi e dopo esperienze comunque precedenti nel passato e quindi mi sento quasi a casa oltretutto è una cosa che mi piace fare e che vorrei continuare a fare e quindi ho accettato di buon grado anche se mettere la faccia in un momento del genere in un momento così non è semplice però sono fanese quindi se non ce la mette un fanese chi ce la deve mettere la faccia quindi Urbinati è seduto sul tuo sgabello qualche settimana fa ha detto se portassimo in porto la salvezza visto tutto quello che è successo quest'anno sarebbe come vincere tre campionati la tua valutazione è in questo ordine di idee? Sì io credo che a memoria una situazione così a Fano credo io non me la ricordo non me la ricordo quindi è chiaro che venirne fuori da una situazione così sia a livello energie di emotive ti toglie molto e quindi veramente è più di vincere un campionato o due insomma perché ti toglie tante energie emotive nervose che è difficile capire chi non vive di calcio e chi non vive questa società dentro si fa fatica come credo molti tifosi che fanno chilometri e sono attaccati a Fano solo loro possono capire forse cosa vuol dire vedere l'Alma magari in questa situazione e di Alma torneremo a parlare venerdì nella nuova trasmissione dedicata proprio al calcio Granata si chiama Pianeta Alma vi aspettiamo intanto grazie a Don Marmanuelli per essere stato nostro ospite noi torniamo con Sportissimo fra qualche istante e dedichiamoci ora alla pallavolo non è da tutti chiudere una stagione regolare al secondo posto è un beneficio di pochi chiuderla senza perdere una sola partita in casa impresa riuscita alla Smart System Fano di cui questa sera torniamo ad ospitare il DS Mattia Brunetti buonasera e bentornato buonasera Andrea e per la prima volta Pietro Merlo schiacciatore della squadra fanese buonasera e benvenuto dicevamo di un epilogo di stagione regolare sicuramente molto soddisfacente domeniche possiamo vedere le immagini quello che doveva essere uno scontro diretto all'insegna dell'incertezza con San Giustino che valeva il secondo posto o comunque un piazzamento importante nella griglia playoff ebbene è stato in pratica un monologo della Smart System che ha giocato una partita impeccabile salvo un paio di passaggi a vuoto con il palleggiatore in posto 1 San Giustino al cospetto di quotanta Smart System è parsa squadra di basso profilo anche se formazione di basso profilo non è Mattia no assolutamente San Giustino è una squadra costruita molto bene ha fatto un percorso importante in questo campionato di Serie A3 poi c'è del grosso merito in quello che abbiamo fatto noi domenica 16 muri 9 ace non sono una casualità è frutto di tanto lavoro di un cambio di passo nell'ultimo periodo dei ragazzi effettivamente poi ecco quando si gioca in questa maniera è difficile tenere il ritmo al passo di questa Smart System Smart System molto efficace in battuta come è quasi sempre accaduto in casa ma estremamente incisiva anche a muro praticamente avete ridotto allo stato di impotenza San Giustino in particolare l'opposto Cappelletti che è uscito praticamente subito di partita senza più rientrarci sì come al solito noi abbiamo spinto in battuta poi come detto bene in casa abbiamo sempre una marcia in più a muro di solito non facciamo così bene quindi c'è stato un grosso lavoro tecnico e tattico da parte della nostra coppia di allenatori e penso si sia visto nel corso della gara insomma imbattuti in casa chiaramente il palassaiende per chi ci deve giocare venendo da fuori non è il massimo dell'ospitalità e chi invece è abituato ad allenarci si trova un indubbio vantaggio però francamente chiudere la stagione regolare da imbattuti in casa è appunto una prerogativa non così comune no no poi se ci mettiamo anche la scorsa stagione diventa quasi due stagioni perché noi non perdiamo in casa dalla prima giornata di andata della scorso campionato con Pineto quindi sono quasi due anni e questo ricorda qualcosa a Merlo esatto 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 un tetto così alto e soprattutto anche per il calore del pubblico perché comunque sia di pressione te ne mette tanto addosso ecco è un fortino il palassaiende e contate sul fatto che vi possa spingere anche nei playoff che andranno a cominciare martedì prossimo questa è la collocazione della sfida con Modica fattore campo che quanto incide in un playoff Pietro? incide tantissimo noi fuori casa sicuramente non siamo la stessa squadra sarà difficile poi il palazzetto di Modica è un posto comunque molto freddo molto cupo non sarà facile giocare lì vediamo qualche altra immagine magari della partita di domenica prima di andare a sfruttare anche i risultati che sono maturati nell'ultimo turno e che hanno definito questa griglia playoff Smart System seconda alle spalle di Macerata che si giocherà la finale secca per la 2 qualche rimpianto Mattia ma no nessun rimpianto in particolare abbiamo per me chiuso degnamente la stagione sapevamo che era un girone molto difficile molto competitivo quello blu e quindi ecco Macerata ha tenuto un ritmo tutto l'anno veramente impressionante è calato un po' sul finale di stagione però ecco diciamo che siamo soddisfatti per il percorso che abbiamo fatto e per il livello che abbiamo raggiunto in questo momento è importante essere arrivati in questo momento particolare della stagione con questo grado di preparazione perché ci dà tanta fiducia poi per il proseguio dei playoff quindi diciamo siamo contenti soddisfatti di quello che è stato fatto questa stagione l'obiettivo era arrivare il più in alto possibile anche per evitare quello che era lo spauracchio vale a dire Palmi che invece se la vedrà proprio con San Giustino è Palmi la mina vagante di questi playoff se lo chiedi a me la squadra che temo di più è sicuramente Palmi non solo per la Coppa Italia ma per lo stato di forma che hanno in questo momento penso che abbiano fatto un campionato simile al nostro per certi versi con qualche difficoltà nella parte iniziale ma è proprio da queste difficoltà che vengono fuori le squadre più solide quindi sì è la squadra che temo di più in questo momento anche perché si è venuta a prendere appunto la Coppa Italia qui a Fano adesso ripeto Palmi è nell'altra parte nell'altra metà del tabellone quindi eventualmente ci si vedrà un po' più avanti dicevamo dello stato di forma di questa Smart System che è andato increscendo nelle ultime settimane sono arrivate vittorie anche in trasferta dove a volte la squadra era mancata clamorosamente è una Smart System al top quella che vedremo nei playoff beh guarda credo credo di sì abbiamo ancora un po' di margine lo abbiamo sinceramente i ragazzi stanno raggiungendo ho fatto una battuta domenica con qualcuno di loro hanno raggiunto il picco di forma proprio in questo in questo momento non so se è il loro picco perché come dire bisogna aspettare un po' di tempo per vedere se ancora continuano a crescere oppure avranno un piccolo calo però ecco fisicamente li ho visti in maniera in campo veramente importante impattante sulla 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 partita si dà buona speranza buona fiducia però per me se lo chiedi a me Andrea per me c'è ancora del margine da qui al proseguo del campionato da questo punto di vista comunque marcate già una differenza rispetto alla scorsa stagione quando la Smart System fu protagonista di un cammino straordinario però arrivò in coda alla stagione con qualche infortunio di troppo e una condizione non ideale sì il percorso è inverso rispetto a quello della scorsa stagione siamo partiti in maniera molto brillante abbiamo costruito tanto durante la regular season e poi ci è mancato un qualcosa a fine campionato quest'anno ribadisco è stato esattamente il contrario abbiamo un po' sofferto all'inizio e sia fisicamente che tatticamente la squadra sta venendo fuori proprio sul finale credo che sia diciamo la programmazione corretta in un campionato in cui playoff in cui tutto si decide durante i playoff Brunetti vede ancora un po' di margine sei d'accordo quali i particolari fondamentali dove c'è ancora da rifinire qualcosa allora un margine c'è sicuramente sicuramente a muro però appunto dopo l'ultima prestazione un passo in avanti c'è stato però questa squadra c'è è solida e quindi penso che faremo un bel fine campionato adesso i risultati dicevamo dell'ultima giornata che hanno contribuito a stilare i verdetti definitivi che hanno riguardato in particolare per quello che riguarda la zona retrocessione qualcosa di già noto nel senso che Bari e Marcianise erano già condannati ai playout si affronteranno invece Casarano e Napoli Napoli sconfitta da Sorrento Casarano non è riuscita ad andare oltre il tie break poi perso con Lago Negro come vediamo dalla classifica Macerata che chiude in testa ma si sapeva già si giocherà punto la promozione diretta in A2 con il Mantua che ha dominato il girone centro-settentrionale Smart System che chiude seconda poi Lago Negro Palmi San Giustino Lecce e Modica sono le squadre che disputeranno i playoff Modica come inquadriamo questo avversario battute in entrambe le circostanze in stagione regolare ma si sa i playoff sono un'altra cosa si il playoff è un campionato il playoff è un campionato a parte rinizia una nuova stagione sotto un certo punto di vista Modica è una squadra per certi versi solida ha dei punti deboli ovviamente ma ecco dobbiamo più pensare al nostro piuttosto che a chi incontreremo in questa fase se saremo bravi a affrontare le ultime partite cioè le partite di playoff come abbiamo affrontato le ultime credo che ci sa divertirsi insomma ecco i favori del pronostico vi possono pesare il fatto che al contrario Modica non abbia nulla da perdere può giovare alla formazione siciliana ma in questo campionato nulla è definito è stato visto durante le varie fasi della regular season e i playoff secondo me non saranno da meno ci saranno sicuramente delle sorprese ora qualche perplessità lo destra il regolamento di questi playoff per quello che riguarda il primo turno perché francamente non credo esista un altro playoff al mondo in cui come nel primo turno di questi playoff di A3 si gioca non al meglio delle tre partite ma in data e ritorno e praticamente non viene garantito alcun vantaggio alla squadra meglio classificata nel senso che l'unico vantaggio tra virgolette è quello di disputare un eventuale golden set in casa Mattia Brunetti credo che la Lega debba aprire una riflessione su questo fronte al di là di quello che sarà l'andamento dei playoff sì effettivamente è come dici te Andrea è un regolamento un po' strano c'è da dire che lo decidiamo noi squadre quando si fa una consulta a luglio sui dati di svolgimento sul planning si decide come affrontare il campionato quali saranno le formule dei playoff tutti insieme votiamo la formula che ci viene proposta di solito a luglio vediamo questa cosa come molto lontana e nessuno effettivamente ci mette mai come dire troppo attenzione poi tutti gli anni ti trovi alla fine e dici ma qualche misera potevamo fare sicuramente meglio potevamo fare però capita il successo sì perché così viene in qualche modo trascurato il merito assolutamente viene acquisito durante una stagione regolare dopodiché dal turno successivo si va al meglio delle tre partite e lì il discorso cambia vediamola questa griglia playoff si comincia a giocare subito dopo Pasqua nel caso della Smart System la gara è stata posticipata gara 1 a Modica il 2 aprile per problemi legati agli spostamenti aerei di fatto sì sì è abbastanza impegnativo adesso gestire la trasferta con così poco tempo a disposizione perché volare su Catania sulla Sicilia proprio nel periodo di Pasqua è estremamente difficile è oneroso e si fa difficoltà a trovare veramente spazio sui voli e anche negli alberghi per l'ospitalità è veramente estremamente complicato ci siamo messi all'opera ovviamente già abbiamo chiuso tutta la trasferta però ecco è stato molto complicato ovviamente non è il caso di mettere il carro avanti ai buoi però nell'ipotesi che tutti ci auguriamo la Smart System passi il turno si scontrerà con la vincente della sfida fra quarta e quinta del girone centrosettentronale vale a dire Motta di Livenza contro Savigliano più in generale va fatta una considerazione riguardo al girone centronordi quest'anno che decisamente di livello inferiore rispetto al girone centro-meridionale si è visto anche in Coppa Italia dove non avete lasciato scampo a Mantua che le ha vinte praticamente quasi tutte nel girone centronordi sì sì stessa cosa ha fatto Palmi con Savigliano poi in pratica la parire è durata veramente poco l'altra semifinale adesso sai guardando così a occhio verrebbe da dire che il livello del girone sud è sicuramente più alto poi sarà il campo a dirlo effettivamente quali sono i valori se dobbiamo dare un giudizio in questa fase di campionato a questo punto dell'inizio di playoff diciamo che i favori dei pronostici li danno almeno le squadre del girone sud centro-sud diciamo per quella che è la tua esperienza ancora relativa visto che sei giovanissima a livello di playoff cosa conta di più l'aspetto mentale l'aspetto tecnico l'aspetto fisico perché siamo comunque in coda di una stagione molto stressante conta tantissimo l'aspetto fisico infatti anche noi nelle ultime settimane abbiamo cercato di spingere il più possibile nella parte dei pesi diciamo anche perché poi giocando ogni tre giorni non ci sarà modo esatto c'era meno tempo e quindi era giusto spingere adesso sacrificando un po' queste settimane per dare il massimo nei playoff che alla fine è tutto quello che conta il tuo collega di ruolo Margutti al termine dell'ultima partita ha detto questa squadra ha molta fame di portare a casa qualcosa è così anche vissuta da dentro dopo la sconfitta in Coppa Italia penso che questa squadra sia nata proprio lì diciamo ne è uscita una squadra molto coesa molto solida e sì ci è stato tolto diciamo l'obiettivo della Coppa adesso ci resta solo questo quindi penso che questo renda il tutto più importante per noi hai già fatto un'esperienza di vertice l'anno scorso a Pineto come ti sei trovato come ti stai trovando ancora adesso a Fano ma io a Fano l'ho detto e lo dirò sempre mi sono trovato bene sto bene adesso c'è da concludere l'anno nel migliore dei modi purtroppo appunto come già detto gli obiettivi gli altri obiettivi ci sono scivolati dalle mani e cerchiamo di chiudere il campionato in bellezza ovviamente i bilanci si fanno alla fine però a questo punto della stagione considerando anche quello che è successo l'anno scorso si può dire che la Smart System la Virtus sia ormai una realtà consolidata di vertice di questa è comunque matura per quel salto di categoria che vedremo se e quando verrà si si ormai siamo una realtà consolidata siamo al quinto al quinto anno la quinta stagione consecutiva di Serie A3 gli ultimi due anni li abbiamo fatti praticamente al vertice abbiamo organizzato due manifestazioni di Lega due finali e insomma ci auspicchiamo tutti di dare il giusto palcoscenico a Fano e di stabilizzarsi magari in A2 organizzativamente credo che ormai siamo pronti e anche diciamo il sostegno che si arriva dalla città sia pubblico che sia quello relativo all'imprenditoria locale si fa ben sperare insomma la differenza si fa in campo ma si fa anche fuori l'affidabilità della Virtus Smart System è nota anche in rapporto a quello che magari succede in altre realtà abbiamo visto una classifica che magari non rispecchia fino in fondo i valori tecnici probabilmente perché appunto in certe realtà si sono verificati problemi che qui fortunatamente non si sono registrati no qui non si sono verificati adesso è brutto cioè nel senso parlarne perché magari poi uno quando li chiama magari succede qualcosa succede no sono sincero gli ultimi cinque anni questi cinque anni di serie A sono stati molto sereni grazie al sostegno delle imprese dell'imprenditoria locale non abbiamo avuto grossi problemi a livello economico perché si parla fondamentalmente di quello mentre in altre realtà vediamo tutti gli anni società che fanno fatica a mantenere come dire gli impegni presi nei confronti anche degli staff degli atleti e anche quest'anno è successo ecco una una cosa del genere qui dovrebbe essere un po' come dire rivisto il regolamento di ammissione campionati perché poi ecco diciamo che c'è del doping che non è quello no che uno si immagina il famoso doping amministratore esatto esattamente che dovrebbe essere gestito in maniera completamente diverso per noi indigeni è facile parlare di Fano come città di pallavolo ma per chi viene da fuori si respira questa atmosfera si respira tantissimo dappertutto per strada al palazzetto al supermercato tutti conoscono la smart system e tutti vogliono che la smart system faccia bene e questo si sente appunto in tutti gli aspetti della vita che a Fano Virtus che si sta ponendo in evidenza anche come soggetto organizzatore di eventi è stata una stagione ricchissima con la Final Four di Coppa Italia e siamo nell'imminenza di un nuovo appuntamento dedicato al settore giovanile perché questo resta comunque una delle architravi dell'attività della Virtus da giovedì a sabato lo svolgimento della Fano 14 Cup riservata alle migliori formazioni under 13 maschili è un orgoglio per la Virtus continuare a profondere impegno anche su questo versante grazie in particolare alla presenza di Marco Montile che è il motore di tutta questa organizzazione assolutamente sì Marco è il motore l'ideatore è colui che si spende veramente a 360 gradi sulla mentre vediamo le immagini della presentazione di questa mattina sulla promozione e sull'organizzazione di eventi la Virtus è una società che ha il settore giovenile nel DNA noi abbiamo come mission primaria quella di portare avanti comunque sia tutti i ragazzi fino alla fine del percorso scolastico che coincide con il percorso scolastico e in pratica non ce lo vogliamo mai dimenticare questa cosa quindi un occhio di riguardo a quelle che sono le attività legate al settore giovanile a quello che è tutto il mondo sociale la socialità che per noi è estremamente importante è sempre prioritario quando andiamo a fare la programmazione di ogni stagione di stagione in stagione grazie a Mattia Brunetti direttore sportivo della Smart System grazie a Pietro Merlo schiacciatore della squadra fanese noi torniamo fra qualche attimo meno 39 alla Colle Marathon 2024 sarà l'edizione del ventennale dunque particolarmente attesa maratona dei valori così è conosciuta la Colle Marathon tra i valori è anche quello dell'amicizia amicizia che è stata stretta in questi anni in particolare con un'altra maratona quella di Chattanuga e alla maratona di Chattanuga 2024 ha partecipato Valeria Baldassari atleta della Marotta Mondolfo Run buonasera e benvenuta buonasera grazie grazie mille con lei anche il presidente del Sodalizio Lorenzo Isotti buonasera e benvenuto anche a lui buonasera grazie partiamo allora da questa avventura tutto credo sia successo abbastanza all'improvviso nel senso che il presidente ti ha gettato l'amo e tu hai in qualche modo abboccato tra virgolette subito subito era diciamo la mia intenzione quella di partire far partire la stagione podistica con un po' di tranquillità ma l'occasione è stata troppo accattivante quindi mi sono subito ingolosita e ho deciso di partecipare e che cosa hai trovato a Chattanooga a Chattanooga ho trovato un vero e proprio weekend di sport in realtà hanno gestito le gare su più giornate e ho avuto anche la possibilità a bel punto di fare proprio all in e di gareggiare sia sulla 5 km del sabato mattina che sulla mezza maratona della domenica con risultati lusinghieri come testimoniano le medaglie che hai portato qui in studio sì sì in America fanno le cose in grande quindi sono partiti con una medaglia appunto color bronzo per la 5 km che in realtà è stata anche una gara veloce abbastanza dinamica dove diciamo venendo dal jet lag è stata un pochino più dura tenere testa posizione finale posizione finale quarta assoluta tra l'altro anche sul discorso age quindi sulla fascia di età sono risultata comunque la prima donna nella fascia 40-49 quindi ho difeso diciamo anche la mia generazione per quanto riguarda la mezza maratona appunto hanno dato l'argento dal momento che non era la distanza maggiore prevista per quel weekend mi sono posizionata quinta qui ho accusato un po' di più diciamo la voglia di fare il chilometraggio e la stanchezza però un ottimo risultato per quanto riguarda questa super medaglia bellissima che rappresenta la challenge quindi la combinata delle due gare dove sono arrivata prima donna assoluta possiamo vedere le immagini in particolare della partenza di questa maratona di Chattanooga in quanti più o meno hanno partecipato e come è vissuta questa maratona dalla città allora erano distribuite su più gare partecipanti quindi in realtà credo che si arrivasse un numero di almeno un migliaio di persone coinvolte c'era anche la gara dei bambini infatti ha gareggiato anche mia figlia Nora di dieci anni che tra l'altro ha compiuto dieci anni proprio quel weekend in America e credo sia stato un compleanno indimenticabile sì indimenticabile e a sorpresa perché sono riuscita a garantire la segretezza della destinazione fino all'aeroporto poco prima di imbarcarci quindi è stata una sorpresa bellissima ti vediamo ritratta appunto sì qui forse era la seconda gara la premiazione quindi anche il fatto di aver vinto la categoria su entrambe quindi la fascia d'età 40-49 che mi rappresenta la gioia di mia figlia che appunto ha vissuto questo clima fantastico perché comunque in America una cosa che ho notato è che hanno rispetto al livello amatoriale italiano un livello forse un pochino più basso ma ha tanta più goliardia e da questo dobbiamo imparare riuscire a prenderci un pochino meno sul serio e divertirci di più un'esperienza legata alla corsa che però si è abbinata in questo caso ad un'esperienza di vita hai conosciuto una città che ovviamente non conoscevi un mondo che ti era sconosciuto e tra l'altro hai approfittato credo di questa circostanza anche per ritrovarti con un parente esatto da agosto quindi del 2023 mio nipote Filippo di 17 anni quindi Filippo Baldassarri cresciuto sportivamente da mio fratello quindi Umberto che ha militato nel baseball Pesaro per credo 20-25 anni ha iniziato la sua esperienza americana quindi sta vivendo un sogno americano alla North Brewer High School in Florida è stato selezionato e sta crescendo nel vivaio appunto di questo istituto come giocatore di baseball come lanciatore quindi era un torneo vicino in Alabama e abbiamo approfittato della vicinanza a 250 km per vederlo giocare immagini anche che documentano appunto queste avventure anche in luoghi caratteristici che avete potuto visitare visitare credo che sia ritratto proprio il nipotino esatto mio nipote mia figlia sì 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 alcune immagini proprio tipiche di quei luoghi hai parlato di una città estremamente curata assolutamente è stata una grande sorpresa perché comunque vivere un pochino l'America quella non proprio classica dei giri turistici quindi non la grande città era diciamo un po' una insomma era anche curioso vedere cosa si nascondesse dietro appunto dei grattacieli e quello che siamo magari più noti a vedere ho trovato una città curatissima pulitissima con un mix tra stile vittoriano e modernità veramente molto molto bella e in questo diciamo che anche un discorso di gemellaggio tra città potrebbe essere un ottimo sodalizio proprio perché anche dal punto di vista turistico ho trovato una struttura veramente di grande pregio arrivare esibendo il vessillo della Colle Marathon non ti ha garantito un'ospitalità particolare assolutamente tra l'altro ricordiamo che questo rapporto con la Colle Marathon è nato in occasione di una maratona disputata a Bosworth in quella circostanza Fabio Ceccarelli ebbe modo di interagire con alcuni concorrenti arrivati proprio dal Tennessee esatto ho trovato un'accoglienza fantastica siamo state ospitate dalla presidentessa dei gemellaggi quindi è stata veramente un'esperienza unica che ci ha permesso di essere ancora più dentro a questo weekend sportivo fatto non solo di sport ma di valori perché comunque alla fine tutto gira intorno ai vantaggi e ai sodalizi reali che riescono a creare le attività sportive e il benessere quindi è stato anche un grande insegnamento per mia figlia in questo senso venire e vivere anche proprio un'esperienza con le persone che organizzano e vedere diciamo come viene come possa unire lo sport anche con una distanza così grande venendo all'aspetto agonistico i risultati che Valeria ha centrato a Chattanooga non sono da ritenere casuali perché ha dei trascorsi estremamente significativi con titoli italiani master e altri piazzamenti prestigiosi in un'attività che è nata si è sviluppata ed è nata dieci anni fa esatto sono nata in realtà come runner col passeggino quindi è stata diciamo avevo avuto già prima comunque avevo già toccato la corsa partecipando a qualche podistica però in realtà il vero e proprio innamoramento c'è stato post nascita di mia figlia quindi partendo con il voler perdere i chili della gravidanza correndo e necessariamente doverlo fare col passeggino con una bimba piccola e poi da lì diciamo quando in realtà superavo inciclabile altri podisti ho pensato bene di iniziare anche a gareggiare insomma ti sei scoperta competitiva strada facendo esatto esattamente sempre divertendomi anche quando in realtà l'attività diventava qualcosa di impegnativo perché comunque i sacrifici da fare sono tanti soprattutto se si ha una vita estremamente piena sia dal punto di vista lavorativo che familiare e chi lo fa lo sa appunto e la corsa in questo senso è assolutamente matematica quindi quanto tu riesci a fare tanto ti dà scoperta strada facendo anche l'attitudine per il mezzo fondo in particolare mi pare di capire il mezzo fondo inteso come le distanze più brevi rispetto a maratona ultra che ho fatto in passato per cui ho anche corso la colla maraton più volte e le mezze maratone è arrivato per problemi fisici in realtà non diciamo causati da un'estrema usura quanto da un'iperpronazione quindi un appoggio del piede non consono ma genetico quindi in realtà che non potevo modificare in nessuna maniera quindi la riduzione delle distanze mi ha portato a velocizzarmi e a farlo necessariamente a ridosso dei 40 anni dove è ancora più difficile però è stata un'ulteriore sfida e lì diciamo che ho avuto una bella soddisfazione con il campionato italiano master nel 2022 quando appunto ho vinto il titolo nei 5.000 allenandoti e gareggiando ho anche acquisito delle competenze che hai inteso in qualche modo trasmettere e condividere esatto esattamente ho avuto occasione di scrivere un articolo che è uscito su Panacea una rivista del comitato scientifico bioscientifico italiano e un articolo specifico sugli over 40 quindi sull'approccio alla corsa in età adulta quindi con molta più attenzione a non so alla rotazione dell'acquisto delle scarpe piuttosto che a fare le cose con più gradualità proprio perché è un'età dove bisogna stare un po' più attenti bisogna dotare gli sforzi esatto Valeria Baldassari è diventata un po' l'atleta di punta chiamiamola così della Marotta Mondolfo Run ma credo che il presidente Isotti abbia avuto strada spianata nell'ingaggiarla per così dire sì sicuramente nell'ambiente Valeria la conoscevano tutti perché è una campionessa insomma è sempre nelle prime posizioni e quando me la sono ritrovata in ufficio come collega di lavoro la cosa nasce con noi come il nostro main sponsor e il nostro datore di lavoro la Ranocchi Software e quindi è venuto quasi automatico proporgli di far parte della nostra società benché lei sia abituata a livelli più alti però insomma diventava win to win diciamo ecco abbinare il lavoro alla sua passione che è quella della corsa e è andata bene ecco io per noi è stato un bel valore aggiunto ecco ci ha dato ci sta dando tanta visibilità e penso possa assicurare anche un effetto traino in qualche modo sicuramente sicuramente poi lei si fa voler bene è una persona molto cordiale e affabile e quindi in squadra sicuramente è stata ben accolta insomma è un po' la nostra portabandiera ecco chiaramente la Marotta Mondolfo Run è anche altro di quanti tesserati parliamo e di quale volume di attività allora adesso siamo arrivati a un bel numero siamo nati nel 2018 quindi siamo una società abbastanza giovane che eravamo una ventina di tesserati diciamo eravamo degli appassionati della zona che dopo aver fatto un po' di gare come Runcard abbiamo deciso di fondare questa associazione e c'è stata un po' la pandemia di mezzo che ci ha bloccato come tutte le altre società sportive però abbiamo avuto sempre il piglio la grande volontà e la forza di fare e stiamo raggiungendo dei begli obiettivi abbiamo tanti tesserati siamo arrivati a una novantina di tesserati tra runner camminatori la maggior parte sono tutti run e abbiamo aperto da tre anni una scuola di atletica per ragazzi quindi abbiamo anche dei ragazzini che corrono facciamo scuola di atletica a Marotta e siamo un bel gruppo veramente c'è gente che è competitiva che arriva spesso a podio e nelle prime posizioni ma c'è anche molta gente che si diverte lo fa per partecipare per migliorare se stessa e per socializzare diciamo è un bel ambiente un bel mix di emozioni e di obiettivi ecco avete tenuto in questi giorni anche l'assemblea tirando un po' le fila dell'attività sì venerdì scorso abbiamo fatto l'assemblea dei soci abbiamo distribuito queste felpe in omaggio a tutti i nostri runner insomma l'ambiente gogliardico il bilancio è sicuramente positivo stanno arrivando continuamente nuovi tesserati anche ora che siamo a marzo di solito il periodo di tesseramento è dicembre gennaio però abbiamo facciamo un allenamento di gruppo tutti i martedì e ogni martedì si aggiunge gente nuova che è interessata a correre con noi il presidente come se la cava? io è un bel impegno è un bel impegno però è molto piacevole è molto piacevole e ci sono belle soddisfazioni poi quanto si fanno queste adunate diciamo e quanto si partecipa alle gare che si è in tanti emerge proprio lo spirito che anima i partecipanti di partecipare un rapporto molto stretto il vostro con la Colle Marathon anche a livello personale sì io da 2016 credo faccio parte nel 2016-2017 del comitato organizzatore Colle Marathon quindi ancora prima di diventare presidente e fondare la Marotta Mondolfo Ran sono un informatico quindi ho dato il mio apporto per quanto riguarda la parte comunicativa quindi do una mano nella gestione del sito della Colle Marathon ho fatto un'app specifica per Colle Marathon e do una mano anche nei canali social diciamo nella pagina Facebook della Colle Marathon quindi il mio il mio contributo è sulla parte comunicativa che è un po' è la finestra che ha Colle Marathon nel pre-maratona diciamo come si comincia da settembre fino a maggio che è il periodo proprio a ridosso della maratona più caldo la maratona poi vera e propria si svolge tutta nell'ultima settimana diciamo il giorno focale il 5 maggio sarà quest'anno però tutta la parte prima l'organizzazione la comunicazione le iscrizioni sono tutte oramai viaggia tutto su questi canali comunicativi qualcosa di speciale la Colle Marathon si è sempre detto non soltanto per il tracciato che è irripetibile anche molto impegnativo ma anche appunto per lo spirito che lo anima e i valori che interpreta è così anche da dentro sì sicuramente sono valori che rispecchiano un po' le persone che la che la organizzano quindi c'è sempre lo spirito di poter fare qualcosa per qualcuno quindi ci basiamo molto sul volontariato sulle associazioni e tutti contribuiscono e tutti vogliono dare quel qualcosa in più per il bene diciamo del territorio e di questo evento sportivo che coinvolge veramente tanti paesi tante comunità e quest'anno poi sarà anche la mezza maratona il primo campionato italiano paralimpico non c'è mai stato in Italia e quindi è un vanto in più per un valore chiamata maratona dei valori per avvicinare anche persone un fatto di inclusione a questo bello sport e far conoscere questo nostro territorio Valeria sarai i nostri di partenza quest'anno nella mezza maratona a bel punto ho rotto gli indugi diciamo già con un chilometraggio abbastanza importante per me in questo caso già con Chattanooga quindi perché non replicare poi in ogni caso ci saranno un paio di ospiti americane quindi due ragazze americane che parteciperanno mi piacerà cercare di essere insomma una buona guida magari per quella giornata quindi perché no ci sarò e trascinerò con me anche delle amiche avete accennato al vostro rapporto lavorativo con Ranocchi Software e proprio ieri si è celebrato il memoria Ranocchi per ricordare la figura di Giovanni Ranocchi e la marotta mandorforana è stata massicciamente presente come vediamo dalle immagini sì noi è stata un'idea mia e di Arianna figlia di Giovanni Giovanni io l'ho conosciuto dall'89 quando mi ha assunto nella sua azienda Natin System all'epoca e poi mi ha riaccolto proprio come un padre nel 2019 quando sono tornato alla Ranocchi sono andato alla Ranocchi Software imprenditore e uomo di sport sì imprenditore grande imprenditore veramente con delle visioni imprenditoriali importanti ha dato lavoro e ha creato un'eccellenza qui nel nostro territorio e la dimostrazione la si è avuta anche ieri con tanta gente una vera dimostrazione di affetto ecco tante persone presenti ma anche già l'anno scorso il pubblico ha risposto bene io come Marotta Mondolforan e i nostri insomma abbiamo preparato il percorso e l'organizzazione diciamo della camminata è stata una vera soddisfazione veramente bello grazie a Lorenzo Isotti presidente della Marotta Mondolforan e grazie a Valeria Baldassare atleta di punta grazie a voi del Sodalizio grazie noi abbiamo concluso ringraziamo naturalmente anche voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima grazie a tutti